Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Buonasera. Buonasera, come sta? Bene. Allora, prima di tutto la ringrazio per aver accettato, anche perché mi sembra che lei sia l'unico giro per il web che tratta il tema in modo professionale. Ecco, perché su Twitter io vedo tante persone che perdono un po' la testa sull'energia nucleare, quindi la ringrazio. Direi sull'energia perché io, poi vabbè, lo dirò durante l'intervista, insomma, questo concetto di essere favorevole o contrario, non si capisce perché l'eccezione debba esistere solo per l'energia nucleare. Uno è favorevole a tutte le energie, intanto quelle che sono disponibili, perché poi in futuro ce ne saranno delle altre, parliamo di quelle disponibili, e soprattutto di tutte quelle che aiutano a raggiungere un obiettivo che ci siamo dati che è un po', diciamo, forzato, è di origine esterna, perché altrimenti continueremo a usare i fossili finché ce n'è, e ce ne sono per almeno altri 500 anni. Sì, assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo un obiettivo e quindi io partirei proprio dalla base. Cioè, qual è il problema effettivo economico legato al nucleare e quale può essere il vantaggio, in modo tale da iniziare a fare un'analisi costi e benefici, visto che comunque lei è professore e di queste cose ne tratta e sicuramente può darci degli elementi su cui riflettere. Lei mi ha invitato, mi ha scritto nell'invito per parlare di energia nucleare. Esatto. Siccome da moltissimi anni mi occupo di energia, è proprio perché l'ho fatto anche all'estero, dove la lite da cortile, che spesso capita in Italia, è un po' meno diffusa, in particolare, io sono stato parecchi anni al Parlamento europeo, poi non proprio, e lì vivevo a Bruxelles, proprio in Parlamento, ero responsabile nella commissione ITRE, quella che questi giorni dovrà analizzare la proposta di modifica della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici. Io ero il responsabile, come funzionario nel segretariato, per le direttive che riguardavano gli sviluppi tecnologici sull'energia e nel caso particolare, proprio perché sull'energia nucleare non c'erano molte competenze, mi sono occupato di tutti i pacchetti sulla sicurezza nucleare, i fondi per lo smantellamento, trattamento dei rifiuti. Detto questo, a me è veramente pare strumentale, non mi sottraggo alla discussione, però per me non esiste veramente nessuna differenza tra le varie forme di energia, differenza a priori, nel senso che ciascuna ha dei pregi e dei difetti. In particolare, già da quando ero io a Bruxelles, poi successivamente, dopo essere stato in Parlamento, sono stato il delegato italiano nel Comitato Energia del settimo programma quadro, quindi quando mi si parla di nuove tecnologie, il futuro, batterie, tutto, certo che dopo un'esperienza ventennale di ricerca sulla fusione, certo che abbiamo ben presente che la tecnologia va avanti, ma rinunciare a priori a qualunque tecnologia disponibile, se avesse dei pregi che potrebbero aiutarci a raggiungere degli obiettivi speciali che ci poniamo, sarebbe stupido, ma le biomasse, l'idroelettrico, il solare, l'eolico, il nucleare, il gas con la CCS, hanno tutte forme e tecnologie energetiche che hanno caratteristiche positive e negative, e se uno volesse, e questo capita purtroppo in questa rissa da cortile che prima le citava, se uno volesse mette in evidenza solo i difetti di ciascuna, senza tener conto dei pregi, mentre qualunque scelta ottimale deve proprio trovare il trade-off tra i pregi e i difetti e se consideriamo che ciascuna ne possiede di un segno e dell'altro e che le dobbiamo mettere tutte insieme per trovare un mix ottimale, capisce che legarsi le mani o bendarsi un occhio in un percorso così accidentato come quello della decarbonizzazione e veramente come quel personaggio che impazzava qualche anno fa, che si chiamava Tafazzi, mi pare, no? Sì. No, no, assolutamente, è per questo che, ad esempio, se da una parte ho apprezzato molto che nel programma di azioni Italia Viva si volesse partire dalla parte burocratica, che è la parte più importante, secondo me, e dall'altra non ho capito esattamente come si è voluti andare a finanziare il nucleare. Cioè, secondo me, una grande pecca di questo programma, ed è un problema secondo me, poi magari mi aiuta anche a risolverlo, è che non si dice, ad esempio, come si intende finanziare il nucleare. E da qui, secondo me, nascono tantissimi dibattiti. Io stesso credo che il nucleare sia una soluzione, ma, ad esempio, non aver chiaro come finanziarlo mi ha fatto dire, eh, però, bisogna capire, perché ci sono tanti modi. Non capisco la domanda. Cioè, se io le dicessi, come intende finanziare un impianto da 5 gigawatt in tutto, o comunque un impianto da 1 gigawatt di eolico offshore galleggiante, come intendiamo finanziarlo? Eh, dipende da che situazione ci troviamo davanti, se siamo in una situazione in cui c'è... Dallo stesso modo, dipende da che situazione ci troviamo davanti. come la critica dite dove le volete fare. Bene, noi abbiamo proposto un mix studiato. Io, naturalmente, mi occupo di queste cose prima che l'azione esistesse. Conosco il segretario da tanto tempo, c'è una stima reciproca, lui mi ha chiesto di dare una mano insieme con tanti altri persone simpatizzanti e competenti anche in altri settori, finché poi c'è stata la necessità di assumere una responsabilità. E con molto orgoglio ho accettato di fare il responsabile energia. Però non è che io mi sono occupato di queste cose da agosto di quest'anno, me ne occupo, faccio scenari da almeno dieci anni. Costruire uno scenario è un esercizio molto bello perché costa poco e uno può stimolare tutta una serie di situazioni considerando proprio le prestazioni delle diverse tecnologie e per alcune di esse ormai avendo una certa confidenza sui costi perché molte sono ormai mature, anzi per alcune si potrebbe persino immaginare che via via che aumentano i volumi costruiti di impianti ci sia una ragionevole crescita dei costi di alcune delle parti che sono già mature. Faccio un esempio, si parla tanto di fotovoltaico con il tracking, cioè con l'inseguimento. È vero che i pannelli le celle continuano a scendere sebbene anche quelle stanno ormai raggiungendo un plateau però il telaio in acciaio i cuscinetti che devono sorreggerlo mentre io lo oriento verso il sole un motore a passo il controllo del motore a passo l'inverter che mi adatta la generazione di quei pannelli per metterle in rete ottimizzando l'accoppiamento tutto questo non posso immaginare che scenda la mano d'opera i costi di allacciamento gli affitti dei terreni ci sono nelle dinamiche di penetrazione delle tecnologie fenomeni di saturazione per cui per dire i siti migliori i più ventosi non sono tantissimi quindi se io ipotizzo di installare in Italia una grande quantità di impianti eolici devo anche immaginare che li metto dove hanno un rendimento basso e quindi costi più alti tutto questo nella simulazione si può fare allora lei dice torniamo ad appunto come si finanzia beh come si finanzia o dove si costruisce come si finanzia dove si costruisce in che tempi si costruisce è tutto il risultato di una evoluzione normativa no? cioè non è che noi abbiamo parlato delle norme per eludere il nocciolo della questione è una questione normativa faccio un esempio oggi noi abbiamo la possibilità di bandire delle aste dove si riconosce a ogni kilowattora prodotto con certe tecnologie un prezzo garantito no? sotto il quale non si andrà in modo che uno abbia coperti i suoi costi poi se invece riesce ad avere costi migliori perché è più bravo più efficiente guadagna di più oppure ha del margine per entrare in asta ad abbassare il prezzo questo veramente capita perché siccome non abbiamo un sistema fluido di autorizzazione non ci sono spesso tanti concorrenti nell'asta perché il prezzo scende poco però questo è un meccanismo pensiamoci un attimo io ti pago in quell'ora in cui produci ti assicuro che tutto quello che stai producendo in quell'ora lì io te lo compro e te lo pago un prezzo che ti ho garantito tu fai i tuoi conti ti regoli che ci stai non ci stai perdendo ci stai anche ben guadagnando se no non si spiega come mai tanti fondi stranieri vogliono venire a investire in Italia e quindi benissimo però quando aumentiamo la quantità installata dello stesso tipo di tecnologia capita che nella stessa ora tutti quegli impianti di quel tipo stanno producendo allora come lo devo pagare io l'operatore che sta costruendo perché io gli ho detto che devo installare tanti impianti a fonte rinnovabile variabile cioè che produce quando lo decide la natura e non quando lo decido io a quel punto devo immaginare come modifico la tecnica o ipotizzo mi serve installare centinaia non dico per caso a caso centinaia di gigawatt di fotovoltaico che d'estate produrranno un'esagerazione di potenza quando il cielo è limpido in tutta Italia e pazienza li pago lo stesso perché poi quegli impianti mi daranno un contributo irrinunciabile d'inverno no? certamente è un ragionamento che va affrontato adesso per fare sta iniziando adesso la consultazione pubblica per la modifica del mercato elettrico europeo che andrà a portare dei risultati tra 3-4 anni probabilmente no? quindi quando noi diciamo in Italia dobbiamo rivedere la normativa e soprattutto siccome si fa a livello europeo l'Italia deve avanzare una proposta in Europa la Francia lo sta facendo in maniera intelligente che valorizzi le caratteristiche delle diverse tecnologie che non emettono anidride carbonica un impianto idroelettrico che produce energia elettrica quando serve se io dicessi a lei che ha un impianto idroelettrico ti pago tutti i kilowattora che mi metti in rete e me li metti modulando secondo le mie esigenze ok? insomma io con questa forza del tuo impianto modulabile tu mi stai evitando dei costi addizionali che sono quelli dell'accumulo mentre un nostro amico che produce da fotovoltaico io gli pago comunque i kilowattora ma glieli pago e poveretto lui non può decidere quando me li dà me li dà quando c'è sole certo e poi io devo pagare per le batterie allora se lei produce da idroelettrico e quel nostro amico da fotovoltaico il kilowattora del suo impianto non vale quanto il kilowattora dell'altro amico che produce fotovoltaico perché il kilowattora del suo impianto evita al sistema dei costi addizionali e se lei produce da biomassa e riesce a produrre 7000 ore l'anno posto che l'andamento orario della domanda elettrica varia ogni giorno ora per ora ma su tutto l'anno ha una fascia costante giorno e notte estate si distribuisce con una normale quindi sulla singola ora come nel senso che io posso assumere che la media della singola ora che ne so mi vengono richiesti tot kilowatt alle 12 e quello del lunedì non lo so e quello è una costante no ma no no quello che mi viene richiesto cioè io io penso che e questo lo dice anche la proposta che ha fatto la Francia di modifica del mercato elettrico che vanno valorizzate le caratteristiche delle tecnologie low carbon non mi interessa usare la definizione rinnovabile nucleare dico persino gas con ccs con cattura della c2 dico le caratteristiche di tutte le tecnologie una volta che sono assunte essere low carbon quali sono le caratteristiche sostanzialmente tre secondo me la quelle variabili e sono le più sfortunate perché producono tutte insieme quando c'è quella risorsa se non c'è vento in Italia è zero la produzione qualunque sia la potenza installata se piove in tutta Italia no la produzione in tutta Italia magari è improbabile che piova ma se piove in una provincia la produzione fotovoltaica è un ventesimo o persino meno della della potenza installata ok di questo io lo so lo ne tengo conto faccio le registrazioni ormai da dieci anni lo sappiamo come vanno le cose però quelle sono variabili non ci sono alternative poi ci sono le categorie cosiddette modulabili in questo quando si dice modulabile si intende che si può modificare la potenza a piacimento senza particolari limiti il massimo sono le centrali idroelettriche con le turbine che insomma tradizionalmente servono a inseguire i picchi tant'è che sono stati poi realizzati ma in tempi insospettabili mica si faceva si facevano gli accumuli idroelettrici perché c'erano le rinnovabili intermittenti proprio no si usava perché si produceva costantemente una certa potenza che di notte era un po' di più di quella che serviva di giorno un po' di meno il di più di notte veniva accumulato con i pompaggi che poi venivano utilizzati l'energia potenziale del bacino a monte veniva utilizzata nei momenti di picco del giorno per soddisfare per andare sì e noi compravamo anche energia dall'estero non esisteva nemmeno la definizione rinnovabile no ok e infatti in Italia fino al 58 59 se si va a vedere lo storico che produce che ha prodotto si può trovare persino su wikipedia di di terna vede che eravamo un paese con quasi il 100% più o meno il 95% dell'energia elettrica che oggi si chiamerebbe rinnovabile perché era idroelettrica e geotermico come oggi succede in Costa Rica che viene spesso citata come esempio virtuoso noi 50 anni fa eravamo come anzi più 60 anni fa eravamo come da Costa Rica già 60 anni prima ma non si chiamava idroelettrico non si chiamava rinnovabile si chiamava idroelettrico e geotermico dunque le modulabili sono le migliori di tutte perché le modifico a piacimento l'energia dà per esempio sugli impianti a biomassa quelli che usano cippato e poi però hanno una caldaia a vapore ce n'è uno molto grande dietro Ravenna che ha 30 megawatt circa di potenza lavora a cippato di pioppo ma ha una turbina a vapore quindi quello non è tanto modulabile infatti lavora tutte le ore possibili in continuo tranne quelle di manutenzione lavora credo 6800 ore l'anno qualcosa del genere continuo fisso lo stesso il nucleare il nucleare è modulabile però se si può evitare è meglio perché dura di più l'impianto il transitorio comunque è lento perché c'è una turbina a vapore non si può fare una rapida variazione come quella che è consentita su una turbina a gas oppure meglio ancora su una turbina idraulica ok quindi queste sono le tre caratteristiche i variabili i modulabili e quelli che si sono più adatti biomasse e nucleare tra quelle che non emettono anidride carbonica ad un servizio poco variabile preferibilmente continuo ma che potrebbe avere una una piccola variazione estate-inverno o notte-giorno ma non certo inseguire le variazioni di un annuvolamento o cose del genere certo queste sono le frecce che abbiamo nella faretra e dobbiamo colpire finalmente il bersaglio di produrre tutta l'energia elettrica senza emissioni di anidride carbonica ma quanta ne dobbiamo produrre quanta se andiamo a vedere gli scenari che sono stati elaborati in Inghilterra in Francia in Italia persino in Italia noi abbiamo pubblicato a gennaio 2021 una strategia di lungo termine l'ha pubblicata il Ministero dell'Ambiente ai tempi del Ministro Costa non ai tempi di Cingolani e Costa ha scritto hanno scritto naturalmente i nostri colleghi dell'RSE ricerca di sistema elettrico GSE eccetera che in Italia al 2050 saranno necessari circa 650 700 c'è stato scritto a gennaio 2021 è stata pubblicata la strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas in Italia la trova sul sito del Ministero dell'Ambiente e lì c'è scritto che il fabbisogno di energia elettrica in Italia arriva arriva a 650 700 teravattora non è una bizzarria italiana cioè la stessa cosa in Inghilterra che oggi consuma più o meno come noi ha degli scenari che arrivano fino a 800 teravattora perché? perché nonostante si ipotizzi uno straordinario un straordinario miglioramento dell'efficienza energetica dico qualche numero per quei 3-4 milioni di persone che ci stanno seguendo no mi dispiace ma mi sa che non ci arriva togliere un po' di zeri perché quando parliamo di numeri dati oggi è una puntata speciale ci sarà un picco dai mi piace pensare speriamo speriamo no a parte le battute cioè il discorso è che la nelle ipotesi di base quelle italiane come quelle inglesi quelle francesi e che oggi noi consumiamo come usi finali di energia circa 120 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio in quel modello si pensa che al 2050 nonostante la crescita economica che per forza va ipotizzata perché è ovvio che uno mai più pensa di ridurre i consumi di energia la domanda la crescita economica continua e si disaccoppia straordinariamente dalla crescita dei consumi di energia e si passa da 120 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di oggi ad un'ipotesi intorno a 70 milioni 70 75 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio al 2050 e perché allora l'energia elettrica cresce così tanto la domanda elettrica perché di nuovo assunzione comune ma la trova sugli scenari dell'agenzia internazionale dell'energia che fa però scenari complessivi di questo parleremo tra un attimo cioè a livello mondiale o a livello di macro regione tutta l'unione europea tutto il nord america tutto il sud america e sono scenari che hanno una valenza importante perché danno degli indirizzi anche loro pensano che dall'attuale livello di elettrificazione che nei paesi Ocse sta intorno al 21% anche in Italia nel 2021 è stato il 21,2% cioè che cosa dico tra i consumi finali di energia il 21% era soddisfatto da energia elettrica gli altri erano carburanti quindi prodotti petroliferi gas e carbone nelle acciaierie primarie e poco altro quindi questo 21% al 2050 deve diventare almeno il 55% perché l'energia elettrica la sappiamo utilizzare per cioè la sappiamo produrre da fonti che non emettono anidride carbonica e in questi 650 700 teravattora ci sono e mi piace è indispensabile sottolinearlo perché poi noi nei nostri scenari simuliamo le curve orarie di queste di questi carichi ci sono l'alimentazione dei riscaldamenti circa 80 teravattora che è ovviamente d'inverno non è che io posso dire accendo i riscaldamenti d'estate perché mi servono d'inverno e neanche posso accumulare calore d'estate per averlo disponibile in inverno perché non ce la farei mai secondo trasporti elettrici trasporti elettrici con quale curva si caricano mezzi a batteria ci sono molti studi che distribuiscono sostanzialmente una quota che è più o meno uniforme sulle ore del giorno con una quota che si concentra di più diciamo verso dopo il tramonto o comunque nelle ore in cui non c'è il picco delle attività quelle attività che devono corrispondere al trasporto di merci oppure al trasporto delle persone quindi ci sono delle varie combinazioni per avere una certa curva della domanda elettrica per caricare le batterie dei mezzi elettrici poi c'è una bella fetta che serve per produrre idrogeno perché alcuni settori dell'industria difficilmente possono essere elettrificati per cui serve una grande quantità di idrogeno e in quel caso noi immaginiamo che l'idrogeno venga prodotto diciamo come carico di base perché così l'elettrolizzatore che produce idrogeno che è un grande impianto sostanzialmente chimico viene utilizzato in maniera ottimale per 8000 ore l'anno perché se io costruissi un gigantesco impianto mi servirebbe da 160 gigawatt un parco di elettrolizzatori se volessi utilizzare l'energia prodotta in eccesso d'estate come qualcuno ipotizza allora tutto questo significa che io ho ben chiaro quanto occuperebbe io ho ben chiaro no quant'è la domanda che devo soddisfare quanto occuperebbe di suolo come dice quanto occuperebbe di suolo una cosa di questo tipo un sistema di elettrolisi che produca idrogeno da 160 gigawatt beh non ho mai fatto un conto ma certamente esiste in letteratura tenga presente che gli impianti per la produzione e l'immagazzinamento di idrogeno perché se lo producessi d'estate poi lo devo immagazzinare sono soggetti a direttiva per cui devono essere realizzati ad una certa distanza dai centri abitati devono essere devono avere degli spazi all'interno di rispetto da un serbatoio all'altro per evitare che in caso ipotetico incendio non ci sia una propagazione una deflagrazione cioè ci sono tutta una serie di vincoli per cui la superficie da utilizzare non è strettamente quella che serve per costruire il serbatoio o per costruire il rack dell'elettrolizzatore ma ci sono tutta una serie di servizi ausiliari antincendio tubazioni valvole controlli per cui non so esattamente ma comunque è una bella una bella superficie ma soprattutto è molto diciamo sub ottimale l'utilizzo dei materiali costruire le celle per la produzione di idrogeno costa costruire gli impianti costa si usano metalli acciai inox eccetera e non sarebbe veramente sostenibile utilizzarli duemila ore l'anno quindi la nostra ipotesi è che l'idrogeno venga prodotto con un non è solo la nostra anche nella ipotesi degli altri che fanno questi scenari devo dire che in Italia a parte noi che ci siamo soffermati molto su queste analisi orarie non ne ho viste moltissime mentre in Inghilterra in Francia è molto ne hanno pubblicata una molto bella a giugno una serie di scenari gli inglesi per 2050 che è fonte di ispirazione per tutti quelli che sono interessati a farne a studiarne allora detto questo io so quanta energia devo produrre so che la devo produrre da fonte che non emetta fonti e tecnologie che non emettono anidride carbonica io dico prima ancora di sapere qual è il risultato siamo d'accordo che ci mettiamo a studiare non il primo che passa su Twitter ma un gruppo di dieci esperti dell'Enea del di Terna di RSE delle università italiane si mettono a studiare dice va bene vediamo io ovviamente se dico questo so quello che dico ho già parlato con i colleghi degli altri se noi attiviamo attiviamo in qualunque modello che fa qualunque istituto di ricerca tutte le tecnologie low carbon senza esclusione pregiudiziale perché io potrei dire non mi piace l'eolico lo dico come un iperbole ma lei sa benissimo che ci sono tante persone che lo hanno in odio e se lo metto a ipotesi del modello il segretario scarvi ha detto che è una bestemmia un delitto eccetera no io dico se noi facciamo facciamo uno scenario senza eolico vabbè lo facciamo proviamolo però se tu mi dici considera le tutte le tecnologie low carbon considera tutti i costi ad essi ad esse associati e dimmi qual è il mix che costa meno occupa meno superficie impiega meno materiali io te lo calcolo lo abbiamo pubblicato è un mix che ha una quota di rinnovabili grande e una quota di nucleare se il confronto lo facciamo in termini di potenza la quota di rinnovabili più sistemi di accumulo è circa 380 gigawatt la quota di nucleare è 36 gigawatt se però vado a vedere quanta energia producono quei 380 gigawatt quanta ne produce i 36 nucleari stiamo più o meno che il 40% dell'energia elettrica è nucleare e il resto è rinnovabile più accumuli ovviamente quando io dico questo siccome l'elettrone non ha segno negli accumuli in un'ora possono andare anche elettroni che sono usciti da una centrale nucleare ovviamente certamente non è che posso sapere però voglio dire la somma dei due dà un mix che costa meno sebbene nei nostri modelli i costi sono tutti quelli molto ottimistici che ipotizza l'agenzia internazionale dell'energia nello scenario cosiddetto net zero che sono costi veramente bassi ma quando io considero di quanto miliardi parliamo per l'Italia ad esempio allora quanti miliardi parliamo quando dico costi intendo il costo di generazione di un kilowattora se consideriamo il costo di generazione di un kilowattora da fotovoltaico con le ipotesi dell'agenzia internazionale dell'energia costa intorno a due centesimi con le stesse ipotesi dell'agenzia internazionale dell'energia un kilowattora nucleare costa sei centesimi e lei mi dice ma com'è possibile allora costa il triplo com'è possibile che ci vada dentro nel sistema ottimizzato che viene calcolato da una routine automatica non è che lo scegliamo noi perché se no diventi matto fa cinquemila iterazioni se le dovessimo fare quindi lui la routine automatica dice questo è il sistema che costa meno perché per noi il costo il costo totale non è la somma dei costi di generazione del kilowattora ma c'è anche dentro il costo delle batterie il costo degli elettrolizzatori per produrre idrogeno il costo dei serbatoi dove lo devo accumulare quell'idrogeno il costo delle pile a combustibile che d'inverno lo utilizzano quell'idrogeno per produrre energia elettrica se ci metto tutto no e non ci metto per fare diciamo non ci metto i costi delle colonnine per le vetture elettriche perché tanto quelle comunque se devo elettrificare quelle colonnine le devo costruire le devo fare che l'energia elettrica venga da fonte rinnovabile che venga da nucleare che venga da carbone le colonnine le devo costruire quindi il confronto non lo facciamo tra le infrastrutture che hanno a che fare con la messa a disposizione ogni ora dell'anno della potenza elettrica che il sistema dei carichi richiede e allora io sommo tutti i costi con tutte le norme le regole dell'ammortamento della capitalizzazione eccetera eccetera e dico un kilowattora consegnato a te che me lo stai chiedendo alle tre di pomeriggio del 7 novembre no il kilowattora consegnato a quell'altro che me lo chiede il tre il tre di agosto io faccio la media sull'anno non vado a vedere quanto costerebbe il tre d'agosto e quanto costa perché è chiaro che qualche volta costa dieci qualche volta costa ora uno ci mancherebbe sì 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 faccio la media sull'anno no perché è ovvio faccio la media sull'anno e il sistema che costa meno è quello con che le ho detto rinnovabili e nucleari non solo ma vado a vedere quanta superficie occupa e non c'è confronto occupa enormemente meno meno della metà il sistema rinnovabile più nucleare rispetto a quello tutto rinnovabile poi vado a vedere sempre con le tabelle delle Nazioni Unite quanti metalli materiali terre rare rame acciaio sarebbe necessario e lì ancora peggio cioè ancora peggio ancora più viene coneroso quest'altro aspetto della sostenibilità che è l'uso dei materiali perché ricordiamoci noi questo sforzo non lo dobbiamo fare come esercizio per un paese piccolo come l'Italia 60 milioni di abitanti che rappresenta oggi l'1% delle emissioni e il 2050 meno dello 0,5 noi questa cosa la dobbiamo fare in modo che sia sostenibile per il mondo intero altrimenti è meglio lasciar perdere non ha senso investire migliaia di miliardi perché di questo stiamo parlando migliaia di miliardi tra impianti rinnovabili batterie sistemi a idrogeno reti elettriche no? tutto questo costa un sacco di soldi se è indispensabile farlo e io ci credo che sia indispensabile farlo perché che la concentrazione di eredite carbonica in atmosfera stia crescendo sia cresciuta come mai prima è misurato no? ma ovviamente bisogna io vado cauto non uso il caldo di questi mesi per dire che il cambio climatico drammatico è già accaduto stamattina partecipavo ad un incontro sulla risorsa acqua e ho scoperto non lo sapevo che il record di precipitazioni in Italia l'abbiamo avuto nel 2019 e il 2022 è stato invece l'anno più secco di quelli da quando avvengono le registrazioni intorno ai primi anni 40 sicuramente abbiamo degli eventi molto diciamo mettiamola così dalle due sigma ecco mettiamola così ma no ma io dico è evidente è misurato la concentrazione dell'andride carbonica in atmosfera non è mai stata a 420 parti per milione mai mai da quando esistono glaciazioni e interglaciazioni da quando è comparso l'uomo sì sì no perché c'è poi la gente che dice non c'era il termometro un tempo ma bene questo porterà a un trend di lungo termine come dice la stessa PCC che potrebbe superare i due gradi di aumento ma se tu hai oscillazioni di 3-4 gradi un anno con l'altro è evidente che sono fenomeni che si sovrappongono che non devono essere usati né nel senso di dire basta non c'è più niente da fare né nel senso di dire non è successo niente perché se l'anno prossimo fa freddo ci sarà il cretino di turno che dice vedete che è tutta una balla già oggi uno scrive a G la piove a G la nevica è veramente tremendo questo riscaldamento globale ma cosa c'entra quelli sono fenomeni a ciclo breve che si sovrappongono a un trend noi dobbiamo combattere il trend non è che dobbiamo inseguire anno per anno se nevica a Gela o non nevica a Belluno facciamo tutto a 21 gradi prof e così risolviamo però questo lo dico anche perché ci sono poi catastrofisti che non gli pare vero di approfittare del fatto o di approfittare di usare sì sì assolutamente vero fa caldo stiamo a quello che scrive l'IPCC c'è un trend di fondo che dobbiamo combattere se no l'IPCC direbbe dobbiamo azzerare le emissioni domattina se anche ci riuscissimo lei forse lo sa ci vorrebbero 200 anni perché la concentrazione ritorni a livello preindustriale quindi capisci se c'è un'attività da fare e da veramente coinvolgere il mondo non correre in avanti a fare tutto noi l'Europa vale meno del 9% oggi delle emissioni e al 2050 sarà intorno al 6% se lo fa solo l'Europa lo sforzo non serve a niente a niente se poi lo fa comprando le tecnologie cinesi è proprio inutile cioè proprio però mi fanno dire che se lo facciamo noi no certo però se lo facciamo noi e noi raggiungiamo un obiettivo possiamo a tracciare una linea che gli altri possono copiare e b avere un impatto molto più coerente mi verrebbe da dire cioè quando ti siedi al tavolo con i paesi medio orientali i paesi orientali vedi scorrendo e gli dici tu stai inquinando valutamente loro ti possono rispondere tu hai inquinato ieri quindi non mi viene a fare la morale ma io questo dico proprio perché io ambisco ad essere copiato devo perseguire un mix sostenibile non quello che piace a quel club che ama fotovoltaico l'eolico o a quell'altro che odia l'eolico o a quello che è ugualmente estremo che vorrebbe tutto nucleare io dico tutte le tecnologie low carbon le dobbiamo considerare e individuare il mix migliore da un punto di vista dei costi dell'impatto sul territorio e del consumo di materiali altrimenti non è ipotizzabile che uno scenario sbilanciato sgangherato poi andiamo a pensare che pretendere che lo facciano tutti io ho l'argomento ho individuato un sistema ottimale e quello è un argomento forte l'altra cosa che mi conforta in questo è che se voi andate a vedere tranne posizioni ideologiche come quelle della Germania ma praticamente tutti gli altri paesi europei considerano per il 2050 un mix con una quota nucleare quanto nucleare dipende da come stiamo messi cioè la ipotesi che in tutta Europa ogni paese abbia un mix ottimale con lo stesso livello delle diverse tecnologie è ovvio che non ha senso le faccio l'esempio dell'Inghilterra che citavo prima hanno pubblicato questo bellissimo documento a giugno e loro pensano che al 2050 installeranno circa 100 gigawatt di eolico offshore non galleggiante ma ancorato ai fondali che costa meno che però produrrà per 5.000 ore all'anno cioè faranno 500 teravattora con 100 gigawatt di eolico offshore che lavora 5.000 ore l'anno ce le avessimo noi queste possibilità la prima di queste di questi impianti eolici galleggianti che ha avviato la via due giorni fa a largo della costa di Brindisi Lecce è un impianto grande da 600-700 megawatt che per dichiarazione dei documenti consegnati per la via lavorerà 2.800 ore l'anno da quella parte fanno 5.000 ore e noi 2.800 5.000 ore o 2.050 bene oggi però ci sono già impianti come iWing in Scozia che lavora con un capacity factor superiore al 50% cioè fa 4.760 ore misurate dai dati medi dei 5 anni di esercizio quindi noi abbiamo impianti italiani che selezionati in un'area ventosa fanno 2.800 ore quelli scozzesi 4.800 ore quindi i costi sono più bassi nonostante questo in Inghilterra 500 terawattora da eolico offshore a costi molto competitivi e 18 16 o 18 giuro non ricordo diciamo 16 perché se no poi qualcuno pensa che è alzo facciamo che sia 16 gigawatt nucleari ora se nemmeno l'Inghilterra che non sa avvento dappertutto pensa che il mix ottimale ha una quota di nucleare come è possibile che non lo pensi l'Italia l'Italia ha una vocazione solare ma i paesi solari quelli della fascia meridionale hanno un piccolo inconveniente che quando io installo un gigawatt solare quello mi produce energia nei mesi estivi e nei mesi invernali in un rapporto 3 a 1 3 e mezzo a 1 capite e quindi cioè devo farmi carico eventualmente di un sistema di accumulo stagionale idrogeno accumulo dell'idrogeno uso di pile a combustibile che costa caro impatta sul territorio impatta sui materiali mi alza il costo complessivo del sistema se l'Inghilterra ha bisogno di nucleare non vedo motivo di contestare che come vi ho detto se si fa un'analisi attivandole tutte le tecnologie e quindi il governo deve dire io sono un professore universitario godiamo di un privilegio che viene spesso sottovalutato a noi nessuno può dire quello che dobbiamo fare siamo liberi dei magistrati e quindi io uso il modello in nucleare si però spero fermo un secondo se mi concede se mi concede perché lei è dirompente ed è anche un piacere ascoltarla perché tira fuori una marea di dati ho fatto una marea di appunti e quindi due domande le voglio porre mi perdoni ad esempio il tema è quello dell'investimento iniziale io credo che si possa investire inizialmente nel nucleare tranquillamente o usando la spesa pubblica già in essere ad esempio trasferendo da spesa corrente a investimenti fissi lordi a parità di spesa pubblica senza creare grandi problemi oppure coinvolgendo degli attori privati andando a definire bene un apparato burocratico tale per cui diciamo l'investitore in Italia può avere una certa sicurezza perché oggi non ce l'ha e quindi per quello mi piaceva il vostro approccio da questo punto di vista lei crede che si può fare non ho capito quest'ultima parte qui cioè ha detto l'investitore privato non ho sentito sì investitore privato l'investitore privato cioè una volta messa in posto la burocrazia si può fare da quel punto di vista allora guardi il vero punto che è il nocciolo della proposta francese della riforma del mercato e di riconoscere la specificità loro dicono esplicitamente anzi dicono tecnologie low carbon però loro hanno in mente nucleare a me sinceramente mi piacerebbe ritornare a quella distinzione che ho fatto prima le variabili le compro ora per ora non cambia niente tanto producono solo quelle ore le modulabili le posso persino premiare addirittura si vuole fare con la diciamo il mercato della capacità no te le pago per la potenza installata e poi ti chiamo a entrare quando voglio io si è creato dobbiamo creare un mercato per quelle che possono lavorare H24 basterebbe estendere la logica del PPA cioè del contratto di acquisto di lungo termine e si fa un bando pubblico in cui si offre l'acquisto di tutto il prodotto di tutto il prodotto di biomassa nucleare idroelettrico ad acqua fluente che non è modulabile ma conviene usarlo sempre tutto produzione da termovalorizzatori produzione a biomassa quelle che dicevo prima con cippato e vapore quindi senza distinguere nucleare o rinnovabili tutte quelle con la caratteristica di funzionare continuamente e però naturalmente il prezzo che gli devo pagare non può essere se al 2050 remunerare il solare nelle ore in cui c'è sole a 3 centesimi fosse conveniente ho appena fatto capire che remunerare quelle altre a 7 o 6 e mezzo è conveniente per il sistema perché taglia un sacco di necessità di accumulo quindi io proprio devo valorizzare le caratteristiche delle diverse tecnologie compro tutto il fotovoltaico anche quello che butto via perché lo devo comprare perché sennò poi d'inverno mi manca e però lo pago sulla base dell'LCE l'LCE della biomassa che ho detto prima dell'idroelettrico ad acqua fluente del nucleare è più alto ma se faccio il confronto sulla base dell'LCE non ha senso perché poi le batterie le deve pagare qualcun altro oppure è molto più complicato e obbligare colui che produce a fotovoltaico di pagarsi pure le batterie ma quello è difficile in teoria si potrebbe dire che uno fa due conti e scopre magari che con fotovoltaico eolico e batterie riesce a entrare nell'asta nell'asta del servizio continuo che viene remunerato 70 centesimi a megawattora perché si fa i suoi conti e tra eolico che costa pochissimo fotovoltaico che costa pochissimo e batterie che costano pochissimo eventualmente al 2050 entra pure lui infatti io la farei neutra dal punto di vista tecnologico differenziando solamente per le caratteristiche dicevo prima le variabili tutte insieme producono le stesse ore le compro giusto un po' di più dell'LCE perché voglio che ci siano gli investimenti poi le devo utilizzare d'inverno se no mi mancano d'inverno e nel caso di fotovoltaico nel caso dell'eolico lo stesso quindi la sua idea è diciamo di rivoluzionare un po' anche il concetto di asta marginale quella sul gas che poi va a determinare anche il prezzo delle variabili queste terminologie ripeto se lei se le cerca anche su internet la proposta nella consultazione la Francia ha già pubblicato il suo punto di vista la Francia scrive proprio questo valorizzare le diverse caratteristiche delle diverse tecnologie low carbon e intende proprio questo perché l'LCE di una centrale nucleare non sarà mai confrontabile con l'LCE secco di un impianto fotovoltaico ma l'impianto fotovoltaico si tira dietro tutti i costi che abbiamo visto il nucleare no quello è finito io te lo produco 8.000 ore l'anno 7.500 ore l'anno e te lo metto a disposizione a quel prezzo un po' come mettere a gara una tratta non so di una ferrovia che è molto molto remunerativa e l'altra magari l'alta velocità per dire è confrontata con un servizio locale servizio locale devo farlo e lo metto insieme certo si 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 metto insieme e il pacchetto lo vendo in modo tale che una parte ci guadagna dall'altro io non so penso se lei mi ha seguito mi conosce preferisco parlare delle cose che so bene ci sono molte persone più esperte di me di mercati gente che sta nell'autorità per l'energia questo meccanismo del PPA Power Purchase Agreement è uno strumento utile per valorizzare la continuità del servizio io ti compro tutta la produzione per i primi 20 anni poi faremo un altro contratto per i successivi 20 a un prezzo che remunera il tuo investimento e così i privati entrano alternative diverse ce ne possono essere tante però un numero io lo devo dare quanto costa un impianto nucleare costa un sacco di soldi costa almeno oggi lo spread è incredibile tra un impianto coreano un impianto americano quei pochissimi che si fanno perché di fatto gli Stati Uniti e l'Europa non ne stiamo costruendo proprio perché c'è un problema di remunerazione cioè ma non la causa dei ritardi non è la remunerazione ma se tu hai costruito in tutta Europa negli ultimi 20 anni tre centrali e i coreani solo a Barak negli Emirati ne hanno costruiti tre reattori e quindi ne hanno costruiti quattro su un'unica centrale in un colpo solo otto anni l'uno a distanza di un anno uno dall'altro per cui in undici anni hanno costruito 5,6 gigawatt nucleari che lavorano 8.000 ore l'anno va bene negli Emirati dove non c'è manco un saldatore non è che è un paese con una specializzazione straordinaria i coreani si sono portati lì pure la borsa degli attrezzi hanno costruito tutto ok e è costato 4.400 euro a kilowatt l'agenzia internazionale dell'energia ipotizza che per l'Europa al 2050 a prescindere dallo scenario sia quello che si è detto net zero sia quelli business as usual al 2050 siccome immagina che ci sia una maggiore costruzione in Europa costi 4.500 euro a kilowatt mettiamo che costi 5.000 è una cifra grande quanto costano 36 gigawatt faccia un conto 36 gigawatt per 5.000 sono 180 miliardi lei scuote la testa le faccio una domanda noi abbiamo ho già detto qual è la mia preferenza la mia preferenza è che si dedichino dei sistemi di acquisto specifici per impianti sulla base tutti low carbon sulla base delle loro peculiarità che portano vantaggio al sistema non peculiarità sfigate per cui comunque costituirebbero una zavorra per il sistema quelli non hanno ragione di esistere ci sono questi impianti che portano un beneficio al sistema e lo conteggiamo il beneficio ora se io voglio che siano gli investitori privati a fare lo sforzo gli devo garantire intanto una procedura che sia legata a meccanismi oggettivi cioè tanto per essere chiari se un privato stesse costruendo il tunnel di collegamento della TAV nella valle di Piemontese un privato da moca se ne sarebbe andato tu mi devi garantire che io inizio il cantiere e non mi ritrovo altro che vernice che mi entrano nel cantiere siccome ci sono lavori anche pericolosi io devo fermare il cantiere ogni giorno questo che credo che sia l'elemento uno dei miei più critici quando lei inizia a costruire un impianto eolico da un gigawatt cosa crede che non si ritrovi i gommoni degli ambientalisti che dicono che da lì devono passare le balene sì è vero però qua forse c'è un elemento diverso nel senso che credo se io costruisco un impianto eolico ne costruisco uno con 7 10 15 20 pale e comunque in Italia ce ne sono molti quando io vado a inserire una nuova tecnologia quella può fare un effetto one off cioè nel senso che diventa una nuova cosa che inserisco in quel sistema e quindi può essere un elemento destabilizzante e essendo che è comunque un progetto e non un processo non c'è quell'abitudine io credo questo credo che sia un elemento su cui è difficile avere uno storico su cui puoi proiettare il futuro questa sia una cosa importante non abbiamo la dimensione noi abbiamo in questo momento 23 gigawatt di fotovoltaico e 11,5 gigawatt di eolico noi dobbiamo installare 300 gigawatt di fotovoltaico in tutto e noi ipotizziamo che si possa arrivare onshore a 35 gigawatt ma è tanto 35 gigawatt onshore e poi un bel pezzo offshore però quando mettiamo i costi dell'offshore il sistema automatico non ne fa entrare tanto preferisci mettere più fotovoltaico che costa poco però questa è una scelta che uno può anche forzare dire no basta ci metto un limite più di quello non posso mettere di fotovoltaico pazienza che costa più caro eolico offshore metto l'offshore se vuole la mia opinione io preferirei pagare un po' di più l'eolico offshore galleggiante lontano dalla costa che non riempire l'Italia oggi ci mettiamo 11 di altri 24 gigawatt di fotovoltaico a terra anche perché non ci sono molte aree ventose e siccome come lei sa stiamo affermando stiamo cominciando a costruire impianti giganteschi proprio come rotore 150 metri di diametro queste torri vanno distanziate alcuni diametri 4-5 diametri nella direzione del vento 3 diametri nella direzione ortogonale occupano quindi anche se liberamente usabili di quelle superfici per pasto però impattano e hanno bisogno di una superficie molto grande che ventosa non c'è in Italia o comunque non è così ventosa e francamente facendo due conti l'area che serve a queste macchine è dell'ordine dei 15 ettari a megawatt 15 ettari a megawatt è area coltivabile utilizzabile per il pascolo qualsiasi cosa c'è un po' di rumore però non ci abiti dentro ma ci puoi fare tante altre cose non è superficie sottratta alle attività agricole c'è solo un'area di rispetto giusto intorno al palo ma tutto il resto si può usare però lo dico perché poi bisogna anche regolarsi su quanta superficie dovremmo avere disponibile ventosa per costruire 35 gigalot e secondo me non ce l'abbiamo ma non solo secondo me ma anche fosse io preferirei comunque realizzarli offshore lontano dalla costa anche se costano un po' di più detto questo quando lei dice sì nucleare sarà sempre più avversato intanto bisogna superare tutto ciò che è irrazionale io non ho ancora potuto diciamo veramente rispondere ad una obiezione di carattere razionale sul nucleare banalmente perché se in tutta Europa ce li hanno questi impianti nucleari è possibile che siamo noi particolarmente cagionevoli per cui moriamo solo a guardarli no guardi io credo che sia un altro l'elemento cioè se noi affrontiamo la questione dal punto di vista razionale io e lei conveniamo che l'energia nucleare serva e che ci siano tantissimi modelli per portarla a termine senza avere troppi problemi ok tantissimi davvero potremmo lei me ne ha tirati fuori alcuni che io non avevo mai sentito però sicuramente ce ne saranno altrettanti molto molto interessanti molto molto intelligenti soprattutto fattibili noi dobbiamo capire secondo me almeno chi è che vuole portare l'energia nucleare dovrebbe porsi nella posizione dell'irrazionale perché è lì che ragiona la gente e quindi abbandonare tutti quei concetti che per noi sono assodati e io credo proprio che il terrore delle persone sia qualcosa di straordinario a prescindere che sia il nucleare che sia la TAV che sia qualsiasi elemento e secondo me ecco che ho apprezzato tantissimo quando Calenda è andato a Piombino a dire va bene ok parliamone qual è l'elemento e questa cosa che la politica non va a parlare forse è questo elemento ma certo ma noi non possiamo stabilire noi io io posso dirle le caratteristiche che deve avere un'area per realizzare un'ecentrale nucleare sono le seguenti per fare centrali intanto le centrali vanno fatte con più reattori non si possono fare centrali con un solo reattore una centrale con quattro reattori si realizza su una superficie inferiore a 200 ettari va bene due chilometri quadrati due chilometri quadrati e produce una quantità di energia elettrica per la quale servirebbero dimensioni incredibili coperte da pannelli fotovoltaici oppure aree ventose disponibili per fare impianti eolici io questo aspetto qui lo vorrei mettere in evidenza dove si possono trovare questi 200 ettari deve essere sostanzialmente un'area antisismica vicino ad acqua che serve per raffreddare i condensatori delle turbine a vapore in particolare in riva al mare oppure lungo i fiumi i fiumi abbiamo qualche incertezza sul regime dei fiumi in presenza di precipitazioni variabili eccetera se abbiamo siti vicino al mare e in Italia ne abbiamo preferibile scegliere dei siti vicino al mare ma non posso essere io questi sono processi che devono essere indipendenti per nell'esempio del deposito nazionale i parametri per individuare le aree idone le ha fissate un'autorità indipendente poi sono state fatte le verifiche e sono state individuate le aree idone e adesso se ne deve scegliere una sola però i parametri devono essere indipendenti non è che io non ho idea di dove potrebbero essere le aree idone non mi sembra corretto truccare le carte perché poi se una entità indipendente individua quella zona qualcuno dirà guarda là le ha messi proprio dove voleva calenda è meglio non dirle queste cose così come io non mi permetto di dire dove potremmo fare un grande impianto eolico perché la popolazione comincia a fare le barricate da subito per non parlare di elettrolisi cioè il rigasificatore del porto di Rivorno la pietra dello scandalo e la direttiva seveso ma lei si rimmagina un impianto di produzione idrogeno da un gigawatt con i serbatoi idrogeno enormi che devono essere guardando i numeri che mi ha dato mi sa che è un po' grande questa batteria è enorme no 160 gigawatt mica in un unico impianto servirebbero 160 gigawatt sì 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 no però se la metto insieme mi esce una roba abbastanza grande ma certo che è grande noi abbiamo un paese pregiato in Toscana non ti faranno fare mai niente in Umbria non ti faranno mai fare niente nelle Marche lo stesso non è che abbiamo aree desertiche enormi cioè in Spagna hanno aree semi desertiche dove fanno impianti eolici dove non li vede nessuno sostanzialmente io penso che l'impianto eolico anche se costa di più meglio farlo offshore fotovoltaico meglio farlo in un'area pianeggiante che magari non si vede sulle pendici di una collina poi però se c'è un mix che ne richiede di meno io lo terrei ben presente non stiamo cioè noi non abbiamo neanche idea di cosa significa passare dall'attuali più o meno 35 gigawatt tra fotovoltaico e eolico a 380 e aspetta ma io le ho detto correttamente i numeri di un mix che ci abbia il nucleare se io levo il nucleare e questi quanti devono essere? 680 diventa 700 750 capisce? ma ce li abbiamo tecnicamente? cioè teoricamente posso teorizzare io devo produrre da fonte intermittente 650 700 teravattora con un profilo che è quello della domanda almeno siamo d'accordo che non posso riscaldare d'estate devo riscaldare d'inverno quando il fotovoltaico produce poco quindi ne devo installare di più per averne a sufficienza d'inverno no no ma teoricamente è fattibile 720 giga allora io ho detto sostenibilità è chiaro che 780 è più insostenibile di 380 no? e costi ed è nettamente più alto il costo di solo rinnovabile e poi impatto sul territorio cioè la saturazione di cui ho detto all'inizio della nostra chiacchierata non è una una cosa campata per aria cioè lei all'inizio comincia poi la gente via via che lei aumenta installare 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 lei va in salento la gente non ne può più di vedere pannelli fotovoltaici quando hanno iniziato io ci ho attorno tutte le stati essendo originario di Lecce ma quando hanno iniziato c'era un certo entusiasmo nella popolazione quando poi hanno cominciato a riempire le campagne è nato una specie di ripulsa ma non è perché la gente ha cambiato idea perché l'impatto delle cose quando aumentano se lei va in autostrada da Napoli a Bari ci sono dei tratti in cui è veramente immerso nelle pale eoliche perché quella è una delle zone più ventose d'Italia e giustamente tutte le richieste di autorizzazione per costruire gli impianti stanno lì se va in pianura padana non ne vede nemmeno uno non è che adesso possiamo immaginare di costruire gli impianti eolici in pianura padana perché non c'è però dovremmo prendere dovremmo avere la rete capace di trasferire energia dal sud ma lo stesso li abbiamo usati quasi tutti i siti migliori capisce? ci sto dicendo che passare dagli 11 di adesso ai 35 che noi ipotizziamo sì va bene ipotizziamo non è non è facile proprio perché stanno stanno non c'è spazio capisce? certo assolutamente anzi credo che sia stata un'ora stra-intensa ci sono un paio di domande dalla chat ne ho soltanto una da farle poi la lascio andare perché non vorrei averla trattenuta troppo però c'è Carlo che ci scrive se posso appunto domandarle perché la zona dove costruire appunto una centrale nucleare deve essere non sismica lui aggiunge cioè in Giappone col terremoto del 2011 hanno perfettamente resistito tutte le centrali quindi perché questo elemento? glielo rispondo in maniera onesta perché in Italia ce l'abbiamo quelle non sismiche e complicarsi la vita a costruire in una zona sismica non ha senso è come la logica di dire no se io ho un mix migliore di un altro scelgo quello migliore i giapponesi non hanno zone antisismiche e hanno sviluppato però ho anche detto che in Giappone costruiscono grattacieli in zone che in Italia se ci fosse quegli stessi terremoti non rimarrebbe in piedi nemmeno un pollaio e lì rimangono in piedi grattacieli cioè hanno sviluppato una tecnica che costa molto precisa io ci ho vissuto a lungo in Giappone e fa impressione andare nelle case sui palazzi con tutti i mobili legati con le catene al muro perché sono abituati che il tema di cade il mobile certo sì sì ma che sono concetti di rischio questi sono concetti di rischio bravo cioè tu fai un'analisi di trade off costi benefici se non hai alternative lo costruisci là ed è paradossale che i giapponesi hanno ripreso col nucleare adesso hanno un piano di sviluppo di ulteriori centrali e che il problema sia da noi che non abbiamo spazio il Giappone è una superficie più piccola disponibile perché poi c'hanno tante montagne di quelle dell'Italia sono 120 milioni di abitanti siccome si dice che in Italia non ci sarebbero spazio per fare le centrali nucleari la densità di abitanti del Giappone è più che doppia di quella italiana e le fanno noi abbiamo le aree antisismiche e sarebbe sciocco non usare quelle assolutamente assolutamente mi sembra da persona che si occupa di rischio tutti i giorni direi proprio che è una scelta abbastanza stupida se abbiamo aree diciamo se abbiamo aree che non sono sismiche sfruttare le aree che invece lo sono mi sembra veramente tirarsi la zappa sui piedi niente io la ringrazio è stato gentilissimo anzi davvero grazie a voi molto molto tecnica molto molto tecnica e me la riascolterò perché ha citato moltissimi documenti e me li voglio recuperare anche un pochino più con calma poi magari se ho qualche dubbio la richiamo per farci un'altra chiacchierata se le piace ecco va bene la ringrazio gentilissimo buonasera arrivederci buona serata grazie mille